Siamo come Calpurnia, contenitore di cultura, spettacolo e intrattenimento di Francesca della Valle in maniera assolutamente speciale a questa sedicesima Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico a Pestum e ho il piacere per i nostri amici proseliti di Web TV Agora del nostro editore Umberto Calabrese di essere nella Repubblica Bolivariana del Venezuela con l'ambasciatore. Ambasciatore è un piacere averla qui in Calpurnia per gli amici del Venezuela, Caracas, Web TV Agora. Come sentite questa presenza qui a Pestum in questa manifestazione che promuove chiaramente il turismo, ma il turismo unito comunque all'archeologia e alla cultura. Hemos tenido una accogida de gran afecto y de mucha fraternidad con mucha belleza, con mucha armonia e abbiamo disfrutato la organizazione della feria. Actividades come questa nos enriquecen e veniamo con molta modestia e con molta humildad a prendere di voi. Traeremo nostri amici di 15 mil anni e vogliamo integrarci fondamentalmente a questo tipo di attività, perché c'è molto dell'America che entregare all'Europa e all'archeologia. I siti archeologici che resistono, quindi esistono, sono l'essenza del turismo. Insieme chiaramente alla cultura, alla tradizione della propria terra e a quella che è l'amore per la propria lingua, la lingua che però incontra un'altra lingua importante, spagnolo italiano italiano insieme per questa intervista speciale per la nostra Web TV Agora. Ambasciatore, un saluto, un saluto forte ai nostri proseliti di Calpurnia e di Web TV Agora di Umberto Calabrese. Un saluto fervoroso, amistoso del governo della Repubblica Bolivariana di Venezuela, del presidente Nicolás Maduro, del pensamento di Hugo Chávez che vive con noi, per tutti gli italiani. Questa passantia per Pestum ci ha enriquecido profundamente. La vestigione delle ruine grieche, dei palacioni e dei templi griechi, ci hanno hanno richiesto di una profonda alegria e di un conocimento sobre la vieja sabiduría che ci ha fatto crescere e desarrollare durante molto tempo. Ad mai ora a tutti gli amici italiani della Repubblica Bolivariana del Venezuela, Caracas, Umberto Calabrese e il nostro ambasciatore è da Francesca della Valle. Grazie! Grazie!